Come sempre è arrivato il momento della nostra pausa caffè. A prendere il caffè da noi, uuuh c'è ardone c'è la trenta sole. Cetti, Gio, ci stavo pensando la settimana scorsa abbiamo parlato di cani, no? Tu c'hai dei cani, come si chiamano? Iago e Falco. Ah, e sono intelligenti? Sono molto intelligenti. E chi è più intelligente dei due? Diciamo che entrambi sono alla pari. Anche perché se dico che uno è più intelligente, poi l'altro mi sente e ci rimane male. Ti senti? Ma perché ci vedono la trasmissione? Eh, certo. Ma davvero, adesso stanno guardando la trasmissione, qui finalmente domenica su Lazio TV? Eh, di solito vedono Canile 5. Canile 5. Ma solo quando ci sono io mettono Lazio TV. Mettono? Ammazza, usano pure il telecomando. Sono proprio intelligenti. Eh, te l'ho detto io che sono proprio intelligenti. Sì, però è un'intelligenza non istintiva, un'intelligenza, diciamo, che viene dalla loro preparazione, perché loro hanno un'enciclopedia di riferimento, la famosa tre cani, ti vedo? Anche noi abbiamo la nostra enciclopedia di riferimento, la nostra pubblicità. Anche noi abbiamo la nostra pubblicità.